Presidente, oggi lei è qui per la presentazione dell'ultimo libro di Davenia, Ciò che inferno non è, ma secondo lei la cultura può sconfiggere il sistema mafioso o soltanto può sconfiggere che già è qualcosa, la mentalità mafiosa? Beh io penso che bisogna partire dalla repressione e per poi passare alla cultura, all'educazione, ma soprattutto bisogna distruggere quello che può dare il consenso a questa organizzazione e quindi questo si può superare con tutta una serie di misure per evitare che il bisogno porti verso la criminalità comune prima e mafiosa dopo. Grazie